Ciao a tutti! Mentre attendiamo con trepidazione ulteriori sviluppi del governo italiano sul piano aiuti in Ucraina, vi raccontiamo l'epico confronto tra Orsini e l'onorevole Bella addormentata nei boschi. Riuscirà Orsini a risvegliarla dal sonno profondo? Facciamo questo confronto tra il professore Alessandro Orsini e l'onorevole Maria Elena Boschi che ringraziamo per essere qui e per... Il problema è il Donbass, se noi vogliamo fare una trattativa con Putin dobbiamo fare delle concessioni, finora non c'è stato nessun discorso di nessun capo di Stato che abbia fatto delle proposte concrete per risolvere il problema, io a volte rimango stupito anche dell'ingenuità di certi quotidiani, oggi leggevo sui principali quotidiani italiani, questa frase la ricordo, la cito a memoria senza citare il quotidiano per non far polemica con nessuno, Putin non vuole la pace e non sono bastate due ore di telefonate con Macron per spingerlo alla pace, lei si rende conto dell'ingenuità che c'è in un'affermazione di questo tipo? Il professor Orsini dice, dobbiamo convincere sostanzialmente l'Ucraina a rinunciare al Donbass, dobbiamo concedere il Donbass a Putin, però è un po' singolare che il paese che aggredisce con le zampe davanti, col beco vuoi, e invade l'Ucraina e comunque attacca la popolazione civile, bombarda le città, uccide bambini, donne, ci sono milioni di profughi, oltre 116 mila raccordi nel nostro paese da l'Ucraina. Quasi come noi dovessimo chiedere scusa a Putin. Scusi signorina, c'è qualcosa che non va? Ma non mi rompere i coglioni! Le diamo una mano, quindi è giusto dare una mano all'Ucraina. È sbagliato fare quello che sta facendo Biden, perché Biden sta sirianizzando la guerra in Ucraina. fare il gioco di Putin è una cosa orrenda, moralmente, politicamente, fare il gioco di Biden è una cosa disastrosa, quindi è l'orrore contro il disastro. Ora, con il rispetto per il professor Orsini, che nel 2022 rimette in discussione la scelta di campo italiana, io credo che tra Russia e Stati Uniti non ci sia dubbio su quale parte sia quella che preferisco, ma perché per ragioni storiche, dove gli Stati Uniti sono intervenuti, comunque, poi hanno consentito a quei paesi di scegliere il proprio futuro. Nonostante l'assenza di un mandato del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e un'imponente mobilitazione dell'opinione pubblica mondiale contro la guerra, il 20 marzo 2003 inizia l'attacco contro l'Iraq. Nonostante i proclami americani, l'Iraq è un paese che ancora oggi fatica a trovare una propria stabilità. Le presunte armi di distruzione di massa irachene, usate come pretesto dagli Stati Uniti, non sono state mai trovate. E di scegliere il proprio futuro. Perché le cosiddette good wars, le guerre giuste, fossero viste per quello che erano, guerre. Per moltissimo tempo la società statunitense è rimasta polarizzata da una rabbia cieca, senza riuscire a vedere quello che fin da subito era in realtà la luce del sole, cioè che dagli albori del conflitto gli Stati Uniti hanno risposto all'autoricità di Al-Qaeda torturando i miliziani che catturavano, che hanno speso molto di più nel fabbricare bombe il più distruttive possibile, che ricostruire quanto queste avevano distrutto. E devo dire che la scelta dell'Italia a fianco degli Stati Uniti e del patto atlattico non la facciamo noi oggi, è una scelta che il popolo italiano ha fatto nel 48. La domanda che mi pongo è questa. A me sembra di capire che la maggioranza degli italiani non condivida il modo in cui Biden sta gestendo le politiche della guerra in Ucraina. I sondaggi, probabilmente saremmo rimasti ai tempi del fascismo, perché Mussolini aveva un consenso amplissimo. Il professor Orsini ha detto che sua nonna era felice ai tempi del fascismo. Eppure purtroppo... Cioè il Corriere della Sera ha sempre falsificato questa mia affermazione e continua a farlo. È un falso. Quindi io quello che dicevo è che la mia frase era una critica delle bombe occidentali contro i bambini siriani, afghani e iracheni. Questo era il senso della mia affermazione. Cioè preferisco che un bambino in Iraq, in Siria o in qualunque altro paese viva sotto una dittatura, nell'amore della famiglia, piuttosto che morire con le bombe occidentali che vogliono esportare la democrazia. Sì, ma lei sta facendo un fatto storico però cancellato il fatto che probabilmente è anche vero che la Germania non voleva il secondo conflitto mondiale. Perché? Perché era più comodo continuare a fare senza l'attenzione della comunità internazionale indisturbata quello che stava facendo. Cioè sterminando ibrei, rom, omosessuali, polacchi. Chi avrebbe potuto continuare a farlo indisturbata senza scatenare un conflitto mondiale? Non c'entra con il mio discorso. Darsi, però certo questo secondo me non è né condivisibile, né possiamo cercare in qualche modo di far passare il messaggio che questo può avere una sua ragionevolezza. Io ho detto una frase che si trova anche nei manuali delle scuole superiori. Ho detto che quando Hitler, il primo settembre del 39, base alla Polonia, non si aspettava, non voleva scatenare quella che dopo abbiamo conosciuto come seconda guerra mondiale. Da questa mia frase è stato ricavato l'incredibile che io sono un mostro, che sono favorevole alla libertà. No, perché si è prestata quella interpretazione. Facciamo così, allora, facciamo così come si fa a scuola. Lezione sintetica. Bambini, 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 per me Hitler è cattivo, mostro, brutto, orrore, orrore, orrore olocausto, brutto, brutto, brutto. Non è colpa dell'alleanza Francia-Inghilterra-Polonia si è scoppiata la seconda guerra mondiale. Dovevano reagire. Brutto, brutto, brutto. Io ho detto semplicemente che il primo settembre del 39, quando Hitler ha invaso la Polonia, non si aspettava di far scoppiare la seconda guerra mondiale. E ho usato questo caso studio per spiegare il meccanismo delle reazioni a catena nelle alleanze strutturali. Hitler non ha nessuna intenzione di scatenare una guerra mondiale, ma vuole riprendersi un po' per volta a quello che pensa appartenga alla Germania. E nei paesi democratici, in Inghilterra, in Francia, nessuno dice niente. Anzi, in Inghilterra qualcuno dice, in fondo noi due secoli fa abbiamo fatto l'unione della Scozia all'Inghilterra, perché non possono farlo anche loro? È complesso, però questo è il concetto. Quando il professor Orsini ci tratti, diciamo, da bambini della scuola... Uno studioso non deve mai avere paura delle masse inferocite. Quella mia frase è una frase... Non mi interessa se... Scusi, mi scusi una Revole. Io quella frase l'ho detta. È una frase storicamente corretta. Non è stata confutata da nessuno storico. Adesso io chiedo a lei, con tutti i nemici che mi sono fatti in questi tre mesi, secondo lei, se quella frase fosse stata storicamente sbagliata, non sarei stata aggredita da tutti i professori universitari di storia d'Italia. Guardi, io non entrerei in questa dinamica perché... Sì, ma... Perché il grande giornalista come Furio Colombo ha detto che lei mistifica la realtà e ha lasciato male per questo. Furio Colombo ha detto che io mistifico la realtà e io le dico che chi mistifica la realtà è Furio Colombo. L'uomo del nuovo mondo. Dopo aver citato Furio per chi non lo conoscesse, vi lasciamo il link in descrizione. Che dire? La Boschi è una bella addormentata. Vi ringraziamo per averci seguito. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti gli scontri epici. Un grande ringraziamento a chi lo ha già fatto.